E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di unboxing di questo pacchettino misterioso, non vi voglio spoilerare niente ma vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, attivare la campanellina e ora passiamo all'interno del nostro caloroso video ed ecco qui il nostro bellissimo pacchettino per chi ha visto i miei sondaggi sopra a Instagram già sa a cosa mi servirà e qual è la nuova serie però visto che ci sono persone che non sono iscritte al mio canale di Instagram facciamolo sapere anche alla community di YouTube cosa abbiamo qui davanti allora, come c'è scritto sulla convenzione, un selfie stick no stick, slicks questo è italiano già mi farà capire che dentro ci sarà una cinesata e non quello che ho ordinato va bene ragazzi, apriamo il pacchetto facile da aprire cacciamo fuori il nostro selfie stick ed eccolo qui ragazzi molto bello, sembra un macete mettiamolo da parte e vediamo cosa c'è dentro la confezione vedo un piccolo pacchettino delle istruzioni ragazzi, è di diretta dalla Cina le nostre istruzioni guardate qui, totalmente in cinesi le istruzioni servono? no qui è vuoto non è successo niente questa mango serve ed ecco qui ragazzi rimaniamo con il nostro macete allora, nella cosa di Amazon nella descrizione c'era scritto che era radiocomandato a distanza ma vediamo se funziona ora passiamo ad un'altra inquadratura un po' più diversa e vediamo il montaggio ed eccoci qui nella nostra nuova inquadratura che non sembra reggersi abbiamo qui il nostro selfie stick vediamo se funziona c'era scritto 74 cm 74 cm non sembra va bene sotto abbiamo l'apertura per farlo sorreggere infatti questo è un treppiede per mantenere lo smartphone sopra e fare i video pro quelli più belli qui c'era scritto nella cosa che mi davano il telecomandino mi sa che mi andrò a rileggere la descrizione per vedere dove è posizionato il telecomandino beh ragazzi ci vediamo ma che avrò scoperto dove sta questo famoso telecomandino ragazzi sono andata a rileggere la descrizione e ho visto che il telecomandino è proprio qui in pratica dicono che questo telecomandino molto magico serve per avviare i video a distanza ma noi ci crediamo? no perché per 8,50 euro link in descrizione non credo proprio che si possa avviare un video a distanza mi procurerò un altro telefono per provare questa cinesata ragazzi ora mi tocca leggere le istruzioni che non vorrei leggere perché non so accendere il telecomandino però noi ce ne freghiamo delle istruzioni e proviamo in tutti i modi prima di tutto c'è la batteria diamo per scontato che c'è la batteria perché se non ce l'hanno messa mando indietro il pacco allora se clicco una volta non si accende niente forse bisogna tenere premuto oh si è acceso un flash lo vedete il flashino che lampeggia? ora mi sa che dovremmo collegarlo via bluetooth bene bluetooth ora andiamo sopra selfie selfie? si chiama proprio selfie? ma mi serve per registrare no? per fare i selfie vabbè connettiamoci associamo è andato ragazzi è andato proprio non ci credo ragazzi purtroppo non mi sono procurato un telefono pur non ha perché si collega solo con i samsung mentre altri samsung solo il mio va bene lo proverò in un prossimo video cioè ovvero nella nuova serie che sanno solo quelli di instagram quale è da karate 10 a